Non vado avanti, se non vi zittite non continuo, non proseguo, boni eh? Boni! Allora, mille lire uno, mille lire due, mille lire... Cinque mila! Cinque mila, benissimo, bene, cinque mila uno, cinque mila due, cinque mila tre, ha giudicato il grigione si può accomodare. No, allora cinque mila. Boni, calma, calma ragazzi, calma, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Il prossimo capo è molto più interessante di questo qua, naturalmente la cifra sarà maggiorata, non vi preoccupate, è che vi amine, siete più ricchi del paese, guarda che eleganza. Ma che ci sta là dentro, io vi sto in transacca da gente. Eh niente, è una riunione del comitato per la protezione del finocchio nostrano. Boh, io sti finocchi nostrani non li proteggerai mica tante, se. Ma adesso passiamo alla sottanina. Partiamo da cinque mila. Quindici mila? Ti farò offerto, quindici mila giù di qua, si accomodi. Lei ha detto quindici mila se non fai, vada a ritirare la merce. Questo fa parte di una speciale campagna moralizzatrice. Noi facciamo questa, questa specie di asta per portare la gioia nelle famiglie. Naturalmente a questo spettacolo avrebbero potuto partecipare anche le vostre signore, le vostre gentili consorti. L'incasso sarà devenuto da opere assistenziali, alla propria sottanina di giuventù. Però ragazzi, state per voi, non state a rompere. Boni, boni, adesso passiamo alla reggisena. Unici mila oppure ritiro la merce. Fate la prima offerta. Sedici mila. Sedici mila. Diciotto mila. Diciotto mila, benissimo. 22 mila. 22 mila, bene. Lei che fa, non offre mai. Avanti, su, dica. Io voglio un meglio pezzo. E se l'indulantire, no? 22,5. 22,6,8. 23 mila. 23 mila, benissimo. 23 mila e uno. 25. 25 mila, 25 mila e uno. 25 mila e due. 27 mila. 30 mila. 30 mila, benissimo. Ha giudicato. Allora è lui mia. Vada, vada, vada. Vada, 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 vada. Beh, andiamo, coraggio. Sì, sì, ecco. Che non riesce a slacciarlo. Ma sì, sì, che ce la faccio. Ma che è quello del voglio, da no? Ma che non sai come straccio? E che so? Due cuffiette? Sì, il mio seno ha cervello e pensa. Ma siete sicuro che sono tutti stranieri là dentro? Perché mio marito è uscito e non riesco più a sapere dove è nato. Signore, ma questo è un meeting. Che? Ma come, un meeting? Avete capito? No, non avete capito. Questo è inglese. Voi venite qua con batti i panni. Questa è una riunione sui problemi turistici del paese. Io vi consiglio di andare a cercare vostro marito e giù all'osteria. Quella staffa canta, entra la botta. Andate, signore. La mutanda! La mutanda! D'accordo, d'accordo, vada pure per la mutanda. Va bene per la mutanda, però la partenza è... 22.000! 23.000! Più, quanto? 23.000! 23.000! Ssh, sta zitta, eh... 27.000! 27.000! 28.000! 28.000! 30.000! 31.000! Di più, lo vediamo, signori! 29.000! Una mutanda! 34.000! 35.000! 37.000! 38.000! 38.000! 38.000! 38.000! 40.000! 41.000! 41.000! 41.000! 42.000! 42.000! 41.000! E non abbiamo la mutanda! E non abbiamo la mutanda! Puoi la darci! 41.000! 42.000! 42.000! 42.000! 42.000! 43.000! 43.000! 43.000! 44.000! 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